Golfo di Napoli, dall'alto del Vesuvio, 26 aprile 2009, al raduno delle Vespe, organizzato dal clip di Torre del Greco, il gigante che dorme, speriamo che non si uscite mai, ma anche se stanno incontriendo la vostra città, in cui si uscita i nostri corsi, la vostra città è della religione, la vostra città è stata un'ordine, è stata un'ordine,